Il Ministero dello Sviluppo Economico prepara la controffensiva dopo la recente sentenza del Tar Lombardia che ha stabilito che nel 2015 Stato, Regioni, Basilicata compresa e Comuni avrebbero incassato royalties sulle produzioni di gas del 2014 più alte di circa il 20%. Resta da capire se proprio le Regioni e i Comuni interessati potranno in qualche modo affiancare il Mise nel ricorso al Consiglio di Stato. I giudici amministrativi lombardi, accogliendo il ricorso presentato da Edison e da altre compagnie petrolifere come Eni e Shell, aveva sancito un surplus del 20% sulle royalties versate nel 2014 per le produzioni del 2014. Le compagnie chiedevano di ancorare la determinazione delle royalties ad un indice più basso rispetto a quello cui è determinato per ogni trimestre dall'Autorità per l'Energia. Accogliendo il ricorso, il Tar ha di fatto imposto l'applicazione dell'altro indice chiamato P4. Il Mise aveva invece applicato l'altro indicatore dopo aver considerato le royalties come una sorta di entrata tributaria. Qualora il Consiglio di Stato dovesse confermare il vedetto del Tar, Stato, Regioni e Comune dovranno rimborsare le multinazionali del petrolio e si tratterebbe di cifre davvero considerevoli. Ciascuna compagnia potrebbe incassare cifre superiori ai 20 milioni di euro. Nel frattempo la questione è approdata anche in Parlamento dopo l'interrogazione presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle per chiedere al Mise quali siano le conseguenze derivanti dalla sentenza del Tar.